Gara di cartello al comunale di Nereto, dove il favale dell'ex Giuseppe De Amicis ospita il città di Teramo, che attende solo la matematica certezza della promozione in eccellenza. I padroni di casa invece vanno a caccia di punti importanti per un posto nei play-off. Tra i pali torna Bozzi, così come Cangemi, Furlan, Ferraioli e Di Giacomo. De Amicis si affida ad Olivieri, Di Blasio e africani nel reparto avanzato. Fischia Pietro Civilli di Chieti, che dopo appena 40 secondi è costretto ad intervenire nell'area di casa, per un atterramento di ragni ai danni di Kovalo Nox. Proprio il numero 9 dal dischetto apre il piattone. Ragni tocca soltanto, ma è 1-0. Il favale inizialmente accusa il colpo e il possesso a bianco-rosso porta alla conclusione di Sputore al sesto. La reazione arriva al dodicesimo, con il tentativo di Osmeni da posizione defilata. Poco altro nell'area ospita nel corso del primo tempo. Al ventesimo ottima combinazione sulla destra. Sputore serve Kovalo Nox, che libera il tiro a cercare il palo lontano. Il letto ne chiede una deviazione che per Civilli non c'è. Proteste il favale alla mezz'ora per un presunto tocco di mano in barriera sul calcio di punizione di Olivieri. Nel finale della prima frazione, il Teramo va ad un passo dal raddoppio, prima ricorrendo alla furbizia. Kovalo Nox viene anticipato sul più bello. E poi con il salvataggio sulla linea di un difensore, sulla conclusione a botta sicura di De Giglio, sugli sviluppi di un calcio da fermo. Si va a riposo sullo 0-1. Le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano al secondo tempo, meno divertente del primo, con il favale che si riversa in avanti alla ricerca del pari. E il Teramo che si difende, provando senza successo a colpire il ripartenza. Prima mezz'ora che scorre senza particolari acuti. Cinaglia prova a coordinarsi in area di rigore, ma non è preciso. Allo scadere, Africani fa impazzire la tribuna del comunale di Nereto, battendo bozzi in uscita con un pallonetto chirurgico e fisse il punteggio sull'1-1. Il Teramo sbanda e il favale nel recupero ha anche l'occasione per vincerla. Prima Africani chiama la respinta a Bozzi, e poi Di Blasio tutto solo all'interno dell'area di rigore e schiaccia centrale. Solo un brivido per Bozzi e compagni. Il match termina così, un 1-1 che sta bene ad entrambi, vista la sconfitta della Turris contro il Fontanelle. Quello sicuramente. Normale che la partita, ve l'ho detto ieri, non vi potete aspettare una partita dal livello tecnico altissimo. Davanti avevamo una squadra forte, una squadra guerrita. Noi oggi abbiamo fatto una grossa partita di sacrificio. Forse il gol iniziale mentalmente ci ha un po' bloccato, nel senso abbiamo fatto una partita un po' troppo di rimessa e noi quello non lo sappiamo fare. Noi siamo una squadra che deve dettare sempre il gioco, però è anche vero che su questo campo non era facile. Dovamo essere un po' più bravi su una palla riconquistata e loro erano molto aperti, dovamo essere molto bravi a tornare dalla parte opposta, perché lì gli potevamo fare male. Però c'è da dire che davanti avevamo una grossa squadra che oggi ha fatto una grossa partita, secondo me ha meritato il pareggio. Sì, sicuramente. Normale che il primo tempo abbia avuto le nostre occasioni per chiudere la partita, però poi nel secondo tempo sinceramente siamo entrati un po' molli. Io avevo detto direttamente, sinceramente avevo detto proprio il contrario, ragazzi, perché sapevo che era una partita difficile, sapevo che il Favale non mollasse, però ci sta, ci sta perché su questo campo non abbiamo caratteristiche, diciamo, da battaglio, soprattutto quei tre giocatori davanti, però devo dire che si sono sacrificati tantissimo. Oggi hanno fatto da quel punto di vista una grossa partita. È normale che poi dal punto di vista di qualità li perdiamo, perché quando poi devono giocare a 60-70 metri della porta fanno fatica. L'unico rammarico che ho è che il gol finale su un fallo laterale nostro, dobbiamo essere un po' più intelligenti per far chiudere la partita lì. Però sinceramente il Favale il pareggio l'ha meritato, il pareggio è il risultato giusto. Come hai detto tu, come hai detto prima Agna, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la tour sta perso, abbiamo guadagnato un punto, non si potevano vincere tutte le partite, anche se era il nostro obiettivo. Dobbiamo essere positivi in questo momento, non dobbiamo essere per niente negativi. Un po' di cattiveria, anche un po' di fortuna, perché c'è il gol, il salvataggio sulla linea, sul tiro di Stefano, Stefano è stato sfortunato e è stato bravo anche il difensore loro a trovarsi lì. Ci è mancato un po' di cattiveria, ma è più che altro quella che ci è mancato un po' di lucidità, anche quando avevamo palla. È vero che il campo era brutto, però a volte la palla si poteva giocare e noi abbiamo la tecnica per farlo. Quando non si doveva giocare, siamo stati brevi a non farlo, perché io l'ho preparata così tutta la settimana, abbiamo preparato la settimana tutta la seconda palla, perché sapevamo che qui era un campo, anzi forse non ha piovuto oggi, non ha piovuto ieri, forse è un meglio rispetto da come me lo aspettassi, però è normale, con la nostra tecnica potremmo fare molto di più, però ci sta. Sì, sì, ma Nikita oggi, ho detto prima, i tre attaccanti davanti hanno fatto una grossa partita di sacrificio, poi questa è una partita di Nikhi, è stato bravo a pulire quelle palle sporche che gli arrivavano, forse a volte doveva essere un po' più cattivo a tenere palla, perché uno con la sua struttura, con i difensori loro che non erano tanto strutturati, poteva tenere meglio la palla, ci poteva far uscire, però credetemi, su questo campo per le caratteristiche dei miei giocatori oggi non era facile, abbia fatto una grossa partita e poi è normale che, secondo me, io lo dico sinceramente, il gol iniziale dopo un minuto ci ha fatto pensare, invece di pensare andiamo lì a fare il secondo, il terzo ci ha fatto pensare, pensiamo a non prenderlo, e invece una squadra come la nostra non può giocare di rimessa, noi siamo una squadra che gioca sempre in avanti, che deve creare occasioni perché è davanti ai giocatori di qualità, come ho detto prima, è normale che De Gidio, Palumbo e Nikita se li fa ripartire a 70 metri alla porta fanno fatica. Sì, ci può stare, però è anche vero che era un momento delicato, io ho cambiato il ritardo perché la squadra sinceramente stava facendo bene e di fronte avevamo un favale che stava migliorando sempre di più la sua prestazione, è normale cambiare, cercare di togliere i giocatori o cambiare modulo, per me non era facile perché non stavamo facendo malissimo, andavamo a essere, come ho detto prima, lucidi in fase di possesso, poi è normale che negli ultimi dieci minuti mi sono voluto chiudere di più, mettere un centrocampo a tre perché a due sputore e faraioli stavano facendo fatica, però ci sta, devono fare meglio, ma come lo devono fare anche chi ha giocato dall'inizio, non è un problema, però ci sta, perché fino adesso chi è subentrato in tutte le partite hanno fatto sempre il loro dovere. No, è inciso, ma davanti loro sinceramente è una squadra forte, anche con Di Blasi o Nicolo Olivieri che penso che è un giocatore che è di categorie superiori, africani, un ottimo giocatore, una punta che non molla mai, anche sul gol, un altro attaccante con altre caratteristiche che non abbia mai fatto gol, invece lui è uno che non molla mai, lotta su tutti i polloni e ha fatto un grosso gol, però io non posso rimproverare nulla la mia squadra, oggi abbiamo fatto una grossa partita non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché credetemi, qui non era facile, ma soprattutto con una squadra che fa vale che oggi veramente ci ha dato filo a torcire. Sono più dieci, no, no, sono più dieci da Sassunia, sono contento, vi dico la sincera verità. Io, nelle ultime partite, penso che un allenatore, soprattutto con l'obiettivo che abbiamo noi, non deve pensare al gioco, deve pensare al risultato, noi oggi abbiamo pareggiato con il Favale che è un'ottima squadra, la Turis ha perso con il Fontanelle, stiamo a più dieci, quindi posso stare più che tranquillo, sereno, è normale che non dobbiamo mollare perché non è niente di matematico, però abbia fatto un bel passo, non abbia fatto un passo indietro, abbia fatto un passo in avanti, è giusto dirlo. Sì, non era facile perché partire dopo 40 secondi col meno uno, una squadra come il Teramo, con una grossa ingenuità, abbiamo regalato il rigore, si stava ripetendo un po' la partita di Pescara, quindi c'era sto rammatico. Bravi ragazzi che ci hanno creduto, anche perché è vero che io in panchina urlo faccio i cambi, ma se poi loro non ci mettono il cuore queste partite non si raddrizzano. Partita a due volti, credo, perché loro chiaramente avevano avuto un'occasione nel primo tempo dove il mio giocatore ha salvato sulla linea di porta, a quel punto la partita sarebbe stata chiusa, nel secondo tempo abbiamo fatto molto, molto meglio e devo dire con tutto rispetto per il Teramo ma abbiamo avuto una palla goal con Di Blasio e Di Testa che sinceramente potevamo anche vincerla, sembra un paradosso, ma così. Sì, più o meno sì, chiaramente su questo campo anche loro si sono adattati un po' a quello che erano le condizioni del campo, abbiamo dovuto farlo anche noi, non hanno penalizzato solo loro, anche noi. Avevamo anche in assenza importante un giocatore di riferimento centrale dietro, quindi eravamo un po' preoccupati anche non solo di affrontare il Teramo ma delle nostre condizioni. Tenete presente che non è per togliere i meriti al Teramo e chiaramente questi dieci punti di vantaggio li merita e facevo prima a fine gara i complimenti al mister che ho detto sbrigate ad andare via da queste categorie che per noi loro sono un problema. Però teniamo presente che siamo due realtà diverse, cioè noi giochiamo con giocatori che stamattina sono alzati alle cinque sono andati a fare il turno di lavoro sono arrivati al campo all'una e mezza direttamente senza mangiare quindi c'è insomma una bella differenza. Il cuore e la bravura di questi ragazzi giovani ha fatto sì che li abbiamo rattrezzati. Su questo campo specialmente ma devo dire che i ragazzi rispecchiano un po' quello che sono stati anche scelti e stanno crescendo in base a quelle che noi vogliamo che siano però c'è stata veramente una reazione non volevano perderla venivamo da questa sconfitta immeritata in un rigore che quello per il termo c'era il rigore di Pescara domenica era inesistente quindi sembrava veramente una beffa in merito ai ragazzi va veramente tutto a loro sono contento più per loro che per me anche perché sinceramente noi cambiava poco però sotto un aspetto mentale insomma dopo 90 minuti giocati così era giusto e a questo punto non possiamo più nasconderci noi dobbiamo fare i playoff che è già un risultato storico per una realtà così piccola ne ho promossa che non ha mai fatto un campionato di promozione e ripeto l'ho detto anche in settimana a qualche intervista sul giornale faremo questi playoff senza la pressione di chi deve vincerli quindi per noi è un vantaggio c'è stata la reazione la stessa reazione c'è stata domenica a Pescara noi abbiamo fatto 30 minuti del secondo tempo dopo che abbiamo subito il gol abbiamo macinato chilometri palloni su palloni abbiamo vinto contrasti siamo andati alle conclusioni purtroppo domenica non siamo riusciti a inquadrare la porta ma abbiamo creato 5 palle goal nel giro di mezz'ora senza subirne con il Teramo chiaramente è una squadra di spessore superiore a tutte i numeri lo dicono non è che la realtà è questa però avevo chiesto ai ragazzi tanto cuore si è visto in campo nessun conteggio noi sinceramente giochiamo ci alleniamo con grande entusiasmo i ragazzi stanno insieme anche quando io non voglio o comunque non li convoco al campo si è creato un gruppo fantastico e quindi non è una questione di secondo terzo posto per noi il playoff è un risultato eccezionale per questa realtà siamo contenti per il lavoro che hanno fatto la società e tutto il mio staff soprattutto perché è merito loro e a quel punto secondi o terzi non cambia l'importante è centrarli e che la seconda non vada via troppo avanti insomma che questi playoff si facciano non cambia non cambia Grazie.